Camiano Olmi, categoria Master 45+, qualificazione Titano 3, CrossFit Pesaro. Sì, va bene. bene, bene, te no, sei, sei, cinque, quattro, tre, due, tre, vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, fin da adesso, non cazzo, voglio, non cazzo, non cazzo, sempre, Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 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 13 15 12 13 14 15 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 16 16 16 16 17 17 19 15 15 16 16 18 18 18 19 19 15 20 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 25 25 24 24 25 25 25 25 hai fatto dai 709